buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi parleremo rispondo ad un signore che mi parla del bianco uguale morte in giappone mi chiede dottore ma secondo lei è anche una forma di ipnosi di massa in giappone perché il bianco da quelle parti rappresenta la morte il cordoglio il lutto infatti quando muore qualcuno in giappone ci si veste tutti di bianco mentre in occidente ci si veste di nero per la risposta ovviamente sì ragazzi anche queste forme così sottili di passaparola di catena di sant'antonio chiamiamole come vogliamo sono non sono altro che delle ipnosi di massa che hanno effetto sulla mente sul corpo e sulla vita visibile e invisibile perché anch'io quando vedo qualcuno che muore ci passo accanto anche sulla radio l'abbasso oppure abbasso lo sguardo oppure tutto ad un tratto mi rattristisco c'è scatta nel mio subcosciente una forma di suggestione post ipnotica e così anche in giappone loro sono abituati a vedere nel bianco osserva i capelli bianchi quando ci si diventa vecchietti la pelle bianca quindi ci si avvicina sempre di più alla famosa morte che ricorda ancora una volta non bisogna avere paura perché non è altro che una partenza per la vita successiva per chi crede nella reincarnazione ma è anche un modo di trasformarsi come dicevo un personaggio famoso nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma e così anche noi ci trasformiamo quindi rispetto sempre mai paura per cui te se hai qualche problemino o qualche desiderio che non riesce a raggiungere da diversi anni usa l'imprinosi di cs vera professionale con le v maiuscola approfitto di questo episodio per invitarti a visitare il sito il sito della mia associazione imprende associati lo seggio svevril se scegliere l'audio di cs che fa per te oppure per il tuo caro perché l'imprinosi di cs funziona anche per chi non vuole o non può ricevere aiuto né online né dal vivo in nessuna parte del mondo in cui risiedi fammi tutte le domande del caso di rispondere gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi avuti ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube per essere ipnosi soluzione di cs il dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella bolla che gli può cambiare la vita come è successo a me il 2008 centinaia e centinaia di persone nel mondo scusi mi sono messo a ridere però ho visto una persona che si stava fiondando sulla mia macchina grazie a dio si è fermato in tempo e metti mi piace come mi dicono della regia su youtube se ti piace questo video oppure non mi piace fai quello che desideri e poi seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao